Casoria fa 13 contro le Alpi e di Monte, 13 reti, la prima rete di De Rosa, che praticamente ha aperto le danze. Beh, vabbè sì, fa sempre il piacere di segnare, soprattutto per me che sono difensore. Sembrava difficile all'inizio, ma poi è stata tutta una partita in discesa e il risultato è stato molto rotondo. Infatti perché nei primi 15 minuti abbiamo creato molto, ma non siamo riusciti a segnare. Poi dal tuo gol in pratica è stata proprio una partita in discesa. Vabbè sì, è vero, magari sono stati in 10 minuti di studio, poi dopo tutto è stato facile, è veramente stata una gran goleata. Cosa hai da dire anche al pubblico che anche oggi era presente in buon numero al San Mauro? Beh, ma il pubblico qui c'è solo da elogiarlo per tutto quello che ci dà anche durante la settimana. Sono quelli che ci danno sempre il motivo di dare qualcosa in più la domenica come oggi. A cinque giornate dalla fine, cosa vuoi dire a nome del gruppo che tu in questo momento rappresenti? Beh, a nome del gruppo sicuramente dico che lotteremo fino alla fine per l'obiettivo promozione, quello che ci siamo prefissati dall'inizio. Magari non è arrivato o non arriverà direttamente col primo posto, ma ci lotteremo verso i play-off. Grazie.